Rieccoci, in mattinata al cielo vedrà la presenza di alcuni passaggi nuvolosi a quota medio alta che non saranno associati ad alcun tipo di precipitazione. Nelle ore pomeridiane la situazione sui rilievi continuerà ad essere coperta da nubi medio basse ancora innocue, mentre in pianura osserveremo un cielo più sereno. In serata le condizioni peggioreranno, vedremo fenomeni anche a carattere di rovescio su tutti i settori, a partire da quelli occidentali. La ventilazione sarà debole con direzione variabile, le temperature non subiranno alcuna variazione sulle massime, mentre le minime saranno in lieve aumento, rimanendo comunque ancora in media con il periodo. È tutto, arrivederci!